Il comando è Maglioli, ma ha spolito un incidente meccanico, lo costringerà al ritiro. Gerini ha ormai cara vinta. Il suo vantaggio sul musso salirà gradatamente fino a superare i due minuti. Giunto alla sesta edizione per la prima volta in giro dell'Umbria sarà percorso in meno di tre ore. Vittoria dunque in un tempo record. Un significativo alloro, per cui Gerini merita doppiamente la corona di alloro.